Grazie a tutti. La notte scorsa è crollato un ponte che unisce il comune al resto del territorio crotonese. Il sindaco Amedeo Nicolazzi denuncia se non si interviene subito ci scapperà il morto. La scuola apre, anzi no, a Longobardi crolla un solaio. Il comune se ne accorge soltanto alla vigilia dell'apertura dell'anno scolastico. Ieri gli alunni sono comunque tornati tra i banchi. Oggi però sono rimasti a casa perché l'amministrazione, se pure in ritardo, ha deciso di chiudere l'edificio. Settembre al Parco inaugurata a Catanzaro la tredicesima edizione della rassegna culturale. Questa sera concerto gratuito del cantautore Roberto Vecchioni. Tra sorrisi e rimpianti il primo turno infrasettimanale di Lega Pro sfila via lasciando contenti Cosenza e Regina. Boccamara invece per Catanzaro e Vibonese. K.O. rispettivamente con Matera e Lecce. E domenica si tornerà nuovamente in campo. Edizione delle 14 del nostro giornale. Buongiorno da Emilia Canonaco. Lo avete appena sentito dal sommario. Abbiamo il dovere di interrompere il prima possibile questa ondata di violenza perpetrata nei confronti delle donne. Così il ministro con delega alle pari opportunità Maria Elena Boschi sul caso della tredicenne violentata dal branco più volte a merito porto salvo. Mentre vi parlo è in corso in prefettura a Reggio Calabria una riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. La riunione alla quale sta prendendo parte anche il ministro Boschi. Poco fa abbiamo sentito il corrispondente Creazzo che ci ha detto che il vertice non sia ancora concluso e che la Boschi al termine incontrerà la stampa. Quindi questo servizio completo ve lo mostreremo nelle prossime edizioni del giornale. Nel frattempo con il lavoro della collega Loredana Colloca vi informiamo sul fatto che della vicenda si è interessata anche la commissione parlamentare antimafia. Si parla di un caso drammatico che dimostra ancora una volta come attraverso l'omertà e la violenza l'andrangheta riesca a controllare questo martoriato territorio. C'è ancora lo stupro di Melito al centro delle cronache nazionali. Dopo lo sdegno, dopo l'indifferenza, l'invito all'attenzione ha dato i suoi frutti. Oggi il ministro per le riforme Maria Elena Boschi sarà nel paese del Regino. Le motivazioni le affida un post scritto ieri sera sul suo profilo Facebook. Domani sarò in Calabria per incontrare i rappresentanti delle istituzioni, i magistrati che stanno seguendo la vicenda, L'arcivescovo di Reggio Calabria, ma anche la dirigente scolastica e i responsabili dei centri antiviolenza, scrive il ministro. Non possiamo permettere che succeda ancora in Calabria o in qualunque altro luogo, conclude. Non ci fermeremo, finché davanti alla violenza contro le donne ci sarà chi penserà e dirà se ne è andata a cercare. Intanto è già stato reso noto che il gravissimo caso di Melito sarà oggetto di una missione della commissione parlamentare antimafia. L'ufficio di presidenza, riunitosi ieri per definire il programma dei lavori, ha affrontato la vicenda nella quale è coinvolto anche il figlio del boss, Remingo Eiamonte. Un caso drammatico rileva la commissione antimafia che mette in luce il contesto di omertà e violenza su cui l'andrangheta fonda il controllo sociale del territorio. E' stato deciso, annuncia la commissione, di costituire un comitato donne mafia che insieme al comitato minori mafia che già sta indagando sul fenomeno dei baby boss, approfondirà il caso anche con una missione in loco. Loredana Colloca per la CNews24. Una criminalità organizzata, quella a Calabrese, che in passato non ha evitato di eliminare anche bambini piccolissimi. Pensate, nel 1974 è stato assassinato un bambino di appena 18 mesi. Il soggetto che era destinatario dell'intimizzazione in realtà era suo padre che poi venne ucciso un mese dopo. Sentiamo. Avrebbe compiuto quest'anno 43 anni il piccolo Giuseppe Bruno, vittima sacrificale dell'andrangheta, morto tra le braccia del padre nel settembre 1974, quando aveva soltanto 18 mesi. Giuseppe è una delle anime innocenti coinvolte loro malgrado in una lotta tra cosche. La dimostrazione è che non è vero che l'andrangheta ai bambini non gli tocca, ma che piuttosto non esita a passarci sopra. Come quel giorno, l'11 settembre di 42 anni fa, quando la criminalità organizzata nostrana non ebbe dubbi nello sparare a padre Alfonso mentre teneva il piccolo sulle sue spalle. I colpi arrivarono dritti alla testa del bambino, un momento di tenerezza tra padre e figlio interrotto da quei colpi di Lupara. Colpi che rientrano nella faida, iniziata pochi anni prima tra le due famiglie rivali, De Frisina Pellegrino e De Gioffre, una faida che in soli tre anni aveva già portato al Camposanto 16 persone. Alfonso Bruno fu soccorso dalla moglie da Iolanda Gioffre, cugina di Vincenzo Domenico Gioffre, soprannominato Ringo, ex capo del clan Gioffre. L'uomo era autista di camion e secondo gli inquirenti in passato aveva lavorato alle dipendenze della famiglia del boss. Un mese dopo Alfonso Bruno viene ucciso, l'andrangheta non lo risparmia, nemmeno si è pagato la sua sopravvivenza con la morte di suo figlio. Tiziana Bagnato per la CNews24. All'interno del porto di Gioia Tauro sono stati sequestrati rifiuti speciali, ben 35 tonnellate. Si trovavano all'interno di tre diversi container destinati agli Emirati Arabi. Operazione congiunta di Guardia di Finanza e Agenzia delle Dugane, i particolari nel servizio di Cristina Iannuzzi. 35 mila chili di rifiuti speciali non autorizzati sono stati intercettati dalle fiamme gialle nel porto di Gioia Tauro, scalo che si conferma crocevia di traffici illeciti. Il materiale altamente inquinante era in transito nello scalo calabrese. Ad insospettire i finanzieri del gruppo di Gioia Tauro, che hanno operato insieme ai funzionali dell'Agenzia delle Dugane, alcuni container che, stando alla documentazione, avrebbero dovuto trasportare ricambi usati di autoveicoli. L'ispezione ha invece accertato la presenza di rifiuti speciali. Al posto dei ricambi per autoveicoli, i baschi verdi si sono trovati di fronte parti di automezzi non sottoposti ai trattamenti di bonifica previsti per legge ai fini della tutela ambientale e quindi da considerare come rifiuti speciali. Un aspetto avvalorato dall'ARPAC, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Calabria, che ha confermato la pericolosità del carico trasportato. Sotto sequestro è finito un container proveniente dal Belgio e destinato in Egitto ed altri due giunti da Genova e diretti negli Emirati Arabi Uniti. Cristina Iannuzzi per l'AC News 24. Dopo il crollo di un ponte la notte scorsa, Pitilia Policastro nel Crotonese è di fatto una comune isolato. Noi abbiamo raggiunto telefonicamente il sindaco Amedeo Nicolazzi che ci ha detto servono subito 8 milioni di euro per i primi interventi di messa in sicurezza del territorio e comunque bisogna veramente non perdere più tempo perché la prossima volta potrebbe addirittura scapparci il morto. Sentite allora le sue parole. È venuto giù che cosa? Un pontino di collegamento con la strada di Betile, un ponte diciamo, una bella striscia di frana che adesso praticamente è isolata nel nostro comune, un pontino con tutto il manzo stradale diciamo. È l'unica via di accesso al vostro comune? No, c'è un'altra via che risulta ufficialmente chiusa, però i cittadini ci passano ugualmente nonostante ci sia un divieto di transito da parte della provincia. In caso di emergenza si allunga di molto il percorso per vigile del fuoco, ambulanze? Sì, andando sempre fra delle quasi non transitabili si allungono di oltre 40 chilometri. La mia richiesta è che finalmente diano atto, hanno i progetti, hanno consegnato tutte le progettazioni per dare una risposta al dissesto idrogeologico, però se continuano a tenersi i progetti nei diretti io non potrò intervenire e Petile continuerà a planare. Adesso è planato il ponte, ma potrebbero planare delle case e se ci saranno i morti saranno guai per chi sta trascurando il mio comune, saranno guai. Senta, di quanti soldi c'è bisogno? Ma intanto per tutto il discorso che si è presentato servivano intorno agli 8 milioni di euro. Noi purtroppo abbiamo una rubiera sotto la città. Io voglio dire a chi mi ascolta e chi ha gli orecchi per sentire gli occhi per vedere che Petiglia non può restare in questa situazione. Emilia Canonaco per la CNews 24 A Longobardi, comune del Tirreno Cosentino, la scuola apre, anzi no. Alla vigilia dell'inizio dell'anno scolastico i tecnici del comune si sono resi conto della instabilità di un solaio. Ieri mattina però gli alunni sono entrati regolarmente in aula. In serata però è arrivata la decisione di chiudere l'edificio scolastico e così oggi gli alunni sono rimasti a casa. La denuncia è di Nicola Bruno, capogruppo in consiglio comunale di minoranza per progetto Longobardi. Sentite. Anche a Longobardi è suonata la campanella, ma per i nostri bambini il primo giorno di scuola è iniziato con problemi sulla mancanza di sicurezza del plesso scolastico del centro. Infatti, appena giunti a scuola, i giornatori ed alunni si sono imbattuti nel crollo di intonaci dal solaio che ha comportato la chiusura di alcuni locali, tra cui gran parte dei servizi igienici. In buona sostanza, e qui sta la gravità, i nostri amministratori, nonostante fossero venuti a conoscenza il giorno prima, cioè il 13 settembre, hanno comunque consentito l'accesso in classe degli alunni. Esposti quindi al grave rischio di danni per la loro incolumità. Da stamattina la scuola dell'invangia del paese è chiusa e i bambini riprenderanno le lezioni venerdì, ma verranno trasferiti per motivi di sicurezza nel plesso marino. Molti bambini che vivono nel centro storico e dintorni saranno costretti a raggiungere il plesso della marina, quindi che è distante. Ai bambini morosi la maggioranza viete il trasporto scolastico e la mensa. Nel primo caso hanno dimostrato, tra virgolette, superficialità, perché tu non puoi andare a fare un sopralluogo nel plesso il giorno prima. Nel secondo caso, pur di far cassa, non consentono a bambini morosi, che sono quindi innocenti, di fruire né del trasporto scolastico né della mensa. Emilia Canonaco per la CNews 24. Allora, preciso subito che noi naturalmente vi abbiamo raccontato questa storia, perché il dato oggettivo c'è, vale a dire che oggi la scuola è rimasta chiusa, ma ci rendiamo conto che la voce che abbiamo appena ascoltato è di un rappresentante della minoranza in Consiglio Comunale, dunque se il sindaco o comunque la maggioranza volessero replicare, noi naturalmente siamo qui. Passo subito la linea ai colleghi Pietro Comito e Rosaria Giovannone per le anticipazioni sulla puntata odierna dei Fatti in diretta. Buongiorno cari colleghi, a voi. Buongiorno Emilia, appuntamento come al solito alle 14.30. Torneremo ad occuparci di immigrazione, immigrazione intesa come opportunità, immigrazione anche come sfruttamento, integrazione come business, come affari. Cercheremo di studiare il fenomeno e di capire qual è il modello calabrese, se il modello virtuoso degli Sprar, il modello di riace, di acqua formosa, piuttosto che di gioiosa ionica, oppure il modello che abbiamo deciso di portare all'attenzione dell'opinione pubblica grazie ad una nostra inchiesta di Falerna che si appaia come una nuova mina pronta ad esplodere nel cuore della nostra regione a quelle già presenti di Rosarno e di San Ferdinando. E ovviamente lo faremo grazie ai nostri collegamenti e ai nostri ospiti. Anche oggi ci raggiungeranno diversi ospiti, sarà con noi Giovanni Maiolo, che è coordinatore dello Sprar di gioiosa ionica, e poi Emanuela Stranges, che è docente dell'Università della Calabria, una esperta demografa, e poi ancora Alessandro Vallone, che invece è un infettivologo, Alfredo Vallone. Infettivologo dell'azienda sanitaria provinciale di Vibo Valenza, che tra l'altro proprio in queste settimane è stato alle prese con il riacutizzarsi dell'emergenza sbarchi, gestita, dobbiamo sottolinearlo, in maniera veramente brillante con la sovrintendenza del prefetto Casabona e la sinergia di tutte le istituzioni. Poi c'è il discorso che affronteremo nel corso della nostra diretta legato alla gestione dei minori, che sono ospiti di una casa confiscata, alla criminalità organizzata, ci sarà per noi il nostro Agostino Pantano, che si dirigerà a Corigliano. Dunque, appuntamento alle 14.30, non mancate neppure oggi. Bene, buon lavoro, buona puntata, soprattutto a Rosaria che ho sentito abbastanza raffreddata. La pagina del giornale è dedicata alla cultura, a Catanzaro inaugurata la decima edizione di Settembre al Parco. Questa sera grande concerto gratuito del cantautore Roberto Vecchioni, il suo concerto si intitola La vita che ama, tour. Inaugurata la decima edizione di Settembre al Parco, che quest'anno ha come sottotitolo Nature Art, suoni, voci e forme della natura. L'evento è organizzato dalla provincia di Catanzaro nel suggestivo Parco della Biodiversità. La rassegna vuole promuovere il rispetto della natura, favorire la sua fruizione culturale attraverso i cinque sensi, partendo proprio dal parco e dal rafforzamento della sua identità di bene comune. In occasione dell'inaugurazione e alla presenza di autorità civili e militari, sono stati riconsegnati alla città capoluogo il Parco dei Folletti e il Castello, due strutture annesse al parco stesso, con l'auspicio che i bambini e le loro famiglie diventino custodi dei parchi, riqualificati e ristrutturati. La prima giornata della rassegna, che durerà fino a domenica, si è articolata in più momenti dedicati a grandi e piccoli, collaboratori, proiezioni di film, mostre e per finire in serata la danza, con tango e passione per il vino festival. E questa sera si parte con i grandi nomi della musica e atteso per le 22 il concerto gratuito del professore Roberto Vecchioni con La vita che si ama tour, organizzato dalla SM Musica. Rossella Galati per la CNews24. Parliamo adesso di università, l'unica università degli studi della Calabria, aperte ufficialmente le iscrizioni alla sesta edizione del Master in Intelligence. Ne parliamo perché si tratta di una esperienza unica, all'avanguardia, all'interno di un ateneo pubblico. Sentiamo allora il professor Mario Caligiuri. La novità è che si parla di intelligence all'interno delle università italiane e lo si fa sempre di più. L'università della Calabria è stata la prima nel nostro paese ad aver avviato un percorso di eccellenza come quello di un Master. Adesso stiamo lavorando insieme con la conferenza dei rettori delle università italiane per fare diventare di intelligence materia di studio nelle accademie di tutto il paese, così come avviene in tante altre nazioni. Quest'anno contiamo di rafforzare l'offerta dei docenti. avremo certamente con noi ex direttori dei servizi, giornalisti, professori universitari, uomini delle istituzioni, uomini dell'intelligence. Sarà con noi il direttore della scuola di formazione del comparto intelligence italiano, Paolo Scotto di Castelbianco. E come noi ricordare poi che la prima edizione ha avuto nel corpo docente l'attuale Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e la prima edizione è stata conclusa dall'allora direttore del SISD, Franco Gabrielli, che oggi è capo della Polizia. Ecco, la nostra intelligence, parlo di quella italiana, a che livello si posiziona? L'intelligenza italiana ha delle punte di eccellenza straordinarie, perché noi rispetto al resto di altri paesi abbiamo dovuto combattere e soffrire la stagione del terrorismo politico. Fiorenza Gonzales per la CNews24. Siamo adesso alla pagina del nostro giornale dedicata al calcio, quello di Serie C. Si è giocata la quarta giornata di campionato, quindi passiamo subito a vedere con l'ausilio della grafica quella che è la classifica delle squadre. Allora, questi sono appunto i risultati. Siracusa Monopoli 1 a 1, Fondi Acagras 2 a 0, Vibonese Matera 0 a 1, Cosenza Melfi 3 a 0, Fidelisandria Paganese 2 a 0, Juve Stabia Messina 2 a 1, Lecce Casanzaro 3 a 0, Regina Catania 1 a 1, Casertana Taranto 2 a 1, Virtus Francavilla Foggia e invece il posticipo. Fin qui dunque i numeri, i risultati, ma vogliamo proporvi le immagini delle partite che sono state disputate proprio dalle compagini calcistiche calabresi. Archiviata anche la quarta giornata di campionato, non senza polemiche, la Regina strappa un punto contro il Catania. La formazione di Zeman, passata in svantaggio alla mezz'ora con un gol di Piscitella, risponde nella ripresa con Bangu. Partono bene gli ospiti, un dominio di 60 minuti, poi il buio totale. Le Amaranto ne approfittano e rimandano alla festa dei tre punti agli avversari che speravano nella vittoria per azzerare la penalizzazione e ripartire. Altro stop per la Vibonese, il primo interno. Il Matera passa a Luigi Razza grazie alla rete di Iannini, un diagonale che risolve una partita tattica, sì, ma povera di emozioni. Il rosso-blu non si fasciano la testa e rimane comunque l'amarezza per non aver lottato per un pari che sarebbe stato comunque giusto. Il Cosenza rialza la testa e lo fa nel migliore dei modi. La pratica Melfer, chiviata già nella prima frazione di gioco, chiudendola per 3-0. Il Catanzaro si arrende a Lecce, i Salentini portano a casa l'intero bottino, 3-le reti. Un risultato a parte, gli uomini di Somma durante l'arco della partita hanno messo più volte in difficoltà la prima della classe. Con un gioco ordinato, organizzato, il Catanzaro viene punito da episodi e dall'evidente superiorità avversaria. Certo è che arrivano i primi segnali di ripresa che lasciano ben sperare per il futuro. Davibo Valencia per la Cineus 24. E dopo avervi mostrato la schermata relativa ai risultati delle partite, passiamo a vedere quella che invece è la classifica in testa il Lecce con 12 punti, Matera a 10, seguono a 9 punti Foggia e Juve Stabia, 6 punti per Cosenza e Casertana, 5 per Fondi e Regina Taranto, 4 punti per Virtus Francavilla, Messina Monopoli, Fidelisandria Vibonese, Catanzaro Melfi 3 punti, Siracusa Acgras 2, Paganese 0, Catania meno 1. E si rifà il look, lo stadio comunale Marco Lorenzon, parliamo naturalmente del Rende, siamo in serie di, guardate le immagini. Casa Rende è finalmente diventato realtà, con il taglio del nastro e la benedizione alla presenza di tutte le massime autorità istituzionali e sportive, il progetto ideato e realizzato dal presidente del Vende Calcio, Fabio Coscarella, ha cominciato a muovere i primi passi, nuove strutture per la prima squadra e per tutto il settore giovanile, quattro campi, aule, studio e tante altre novità che verranno definite nelle prossime settimane. Col taglio del nastro noi andiamo ad inaugurare una struttura che spero possa essere la casa di tutti i rendesi, già dal nome Casa Rende significa che vogliamo dare veramente un senso di familiarità a questo luogo e speriamo di farlo con la massima passione che non ci ha mai abbandonato. Il Rende vorrebbe cercare di dare qualità al settore giovanile e dare la possibilità a tutti questi ragazzi di esprimersi al meglio e di arrivare dai primi calci fino ad una prima squadra che comunque in questo momento è in Lega Nazionale dei Tanti. Siamo partiti bene, l'importante è sapere, lo dicevo anche ai ragazzi, che se dovessimo essere lì la società non solo non si tirerà indietro ma cercherà di fare tutto per provare già da quest'anno ad arrivare in un campionato che secondo me lo merita tutto quanto che è quello della Lega Pro. Una giornata che è stata anche caratterizzata dalla presentazione della prima squadra che guida a punteggio pieno il campionato di Serie D e da una partita a Marcord che ha riportato a Rende quei giocatori che a cavallo tra gli anni 70 ed 80 regalavano a Rende la prima storica promozione in Serie C che sia di buon auspicio da Cosenza per la CNews24. Bene, è davvero tutto, non ci sono aggiornamenti di rilievo, mi fermo qui, vi ringrazio per l'attenzione e voglio ricordarvi che dopo la sigla e la pubblicità andrà in onda una nuova puntata dei Fatti in diretta titolo di oggi Immigrazione, Ighetti e Terra di Transito Arrivederci Visita il sito www.lacnews24.it oppure scarica l'app sul tuo smartphone o tablet per essere aggiornato 24 ore su 24 7 giorni su 7 sulla Calabria che fa notizia La CNews mattina da lunedì a sabato alle ore 7 domenica ore 8 i calabresi sono informati Grazie a tutti